bene oggi quindi parleremo del noleggio quelli che sono i vantaggi del noleggio stesso faremo una demo del nostro portale TAS dedicato alla gestione di tutto il processo relativo a quest'operazione per poi concludere il tutto con varie domande ed eventuali bene poniamo il caso che io come utente privato debba per esempio acquistare un notebook per un mio uso personale definisco quello che è il mio budget definisco quello che è la durata temporale entro il quale questo prodotto mi deve durare e quelle che sono le sue performance in un'ottica di utente privato questo è un procedimento molto semplice ma in ottica business il discorso si complica perché dobbiamo andare a valutare quella che è la performance durante l'utilizzo del prodotto la curva dell'utilizzo che vediamo in questo grafico ci dice che in un primo momento il nostro utilizzo dell'asset rispetto alla cifra spesa per l'acquisto è sicuramente sotto performance rispetto al potenziale effettivo del prodotto ma con l'andare avanti del tempo divento bravo nell'utilizzo di questo prodotto tant'è che vado a chiedere una maggiore performance a questo asset che però non riesce a starmi dietro perché? perché ci sono aggiornamenti di sistema gli applicativi vengono aggiornati per farli funzionare sul nuovo sistema operativo la memoria si riempie tutta una serie di motivazioni tali per cui la macchina, l'asset non riesce a star dietro a quelle che sono le mie esigenze lavorative quindi il paradosso è che nel momento in cui appunto abbiamo un maggior bisogno di performance l'asset che abbiamo a disposizione non ce l'abbiamo perché è datato la soluzione a questo problema arriva con il noleggio operativo perché anche in questo caso vedremo che all'inizio del rendimento sarà sotto performance rispetto alla somma che stiamo impiegando per pagare i canoni di noleggio ma poi vedremo che nel momento in cui andremo ad avere una maggiore richiesta di performance con il noleggio potremo prendere un nuovo asset utilizzare un nuovo asset che sta dietro a quelle che sono le mie richieste di lavoro tant'è che vediamo che appunto le due curve del noleggio e dell'utilizzo sono sostanzialmente sullo stesso livello guardando questi due nuveni magari non ci dicono nulla ma in realtà ci dicono molto infatti 69 sono i mesi in cui gli asset acquistati rimangono in azienda di ricontro 37 sono i mesi in cui gli asset noleggiati rimangono all'interno di un'azienda questo fa capire che potenzialmente nel medesimo arco temporale è possibile effettuare due vendite e due noleggi sul medesimo cliente finale andando ad approfondire ancora di più il tema vediamo come quasi il 70% delle aziende sostituisce principalmente client e mobile phones nel giro dei tre anni stessa cosa anche per gli storage o anche per altri server ma che arrivano tendenzialmente a cinque anni non andiamo in archi temporali molto lunghi quindi andiamo a vedere che c'è un forte rinnovo tecnologico tutto quanto detto sinora ci fa venire una domanda ovvero perché scegliere il noleggio operativo ci sono dei benefici sia per il cliente finale che per il reseller partendo dal cliente finale il primo vantaggio che ci balza agli occhi è quello del cash flow ovvero non è necessario un investimento iniziale da parte del cliente finale anzi questa libertà finanziaria garantisce una gestione semplificata del budget poniamo il caso che il cliente finale debba scegliere come investire 10.000 euro se acquistare 10 notebook da 1.000 euro oppure pagare un canone per esempio di 3.000 euro per un anno per dei notebook e avere gli altri 7.000 a disposizione per rinnovare un server o per altre operazioni che vuole fare all'interno dell'azienda infine il noleggio operativo è un'operazione che non comporta alcun controllo sul cliente finale alla centrale rischi questo perché la natura stessa del noleggio operativo non è quello di pagare delle rate per saldare un debito bensì pagare un canone di utilizzo di un determinato asset ovviamente come per il cliente finale anche il rivenditore ha i suoi benefici il primo è quello della creazione di un'offerta differente questo significa che all'interno della proposta di noleggio operativo potete proporre anche quelli che sono i vostri servizi e con il nostro portale TAS la forbice a disposizione per quanto riguarda la proposta dei vostri servizi è molto importante inoltre a proporre i vostri servizi il noleggio operativo crea una pipeline sul cliente finale perché i contratti di noleggio scadono e noi sappiamo come rivenditori che allo scadere dei contratti dobbiamo andarli a rinnovare abbiamo delle potenziali opportunità di proporre nuovi prodotti non dobbiamo stare ad aspettare che l'asset di quel determinato cliente finale magari sia obsoleto sia ormai arrivato alla frutta sostanzialmente infine tutto questo genera appunto domanda ricorrente che si traduce appunto in maggiore opportunità di vendita per i reseller giunti a questo punto introduciamo quello che è il tech as a service ovvero il portale che TDS Innex ha pensato per i rivenditori per proporre il noleggio operativo qui vediamo le caratteristiche fondamentali ovvero la soglia d'ingresso pari a 1000 euro la percentuale dei servizi e dei software inseriti all'interno della proposta pari fino al 49% del valore del contratto l'assenza delle spese per l'incassolata da parte delle finanziarie la semplicità dell'utilizzo la vedremo adesso con la demo appunto che andremo a fare del sistema e infine la gestione anche dei prodotti che non sono in intaccia abbiamo scelto anche di integrare questi prodotti per consentire al reseller un'offerta completa a 360 gradi anche su eventuali prodotti che per esempio noi non trattiamo quindi garantire la massima libertà diciamo al reseller fin qui è tutto chiaro ci sono domande bene andiamo quindi a parlare del nostro portale tasse come abbiamo detto il portale è semplice da utilizzare perché è integrato all'interno di in touch per creare una proposta per creare una proposta di noleggio operativo dobbiamo entrare su in touch che è il nostro siti commerce all'interno del quale appunto ci sono tutti i nostri prodotti andiamo a creare un carrello che andiamo a rinominare per esempio come meglio preferiamo io lo rinomino così e andiamo a selezionare quel prodotto che vogliamo appunto proporre al nostro cliente finale immaginiamo di prendere questo notebook hp vediamo tutte le specifiche clicchiamo su acquista come se fosse un normale acquisto fondamentalmente e andiamo sul carrello nel carrello ritroviamo le i dettagli del prodotto le quantità e tutte le varie informazioni del caso attivando il portale tasse il servizio tasse arrivati allo step numero 3 della fase dell'ordine cioè a repilogo dell'ordine vedremo questo nuovo pulsante ovvero crea subscription ora cliccandoci avremo accesso diretto al portale tasse prendiamo il caricamento la pagina si divide in tre parti la prima dove questa iniziale dove vanno inseriti i dati del cliente finale questi sono i dati che le finanziarie le finanziarie anzi in quanto abbiamo un accordo europeo con due finanziarie che sono hp financial services e dll andremo ad inserire questi dati che saranno quelli utilizzati appunto dalle finanziarie per effettuare il loro credit check sul cliente finale non è richiesta solitamente una aggiunta di documenti per quanto riguarda queste verifiche perché appunto con questi dati le finanziarie riescono a verificare il tutto qui abbiamo appunto fatto un una compilazione rapida giusto per farvi vedere i campi da compilare nella parte centrale ritroviamo gli elementi del contratto di noleggio della subscription quindi hp elite book 1040 che sarà categorizzato appunto come hp notebook dove troviamo già indicato quello che è il costo ovvero il vostro prezzo di acquisto come indicato in precedenza possiamo aggiungere anche quelli che sono software e servizi quindi basta cliccare su aggiungi prodotto servizio e possiamo andare tranquillamente a digitare consulenza per esempio e manutenzione andarli a indicare come servizi alla consegna generici e andare ad imputare per esempio un valore un prezzo di vendita che si andrà a sommare a quello del notebook che abbiamo inserito nel carrello relativamente al notebook giustamente mi sta dicendo ma io qui dove ci guadagno molto semplicemente possiamo o impostare noi un margine quindi inserire una percentuale di margine oppure definire un prezzo di vendita e istantaneamente ci viene indicato quello che è il margine che andiamo ad applicare infine nella parte centrale nella parte finale del della pagina troveremo la possibilità di dividere la durata del contratto di noleggio da 12 a 60 mesi variabile appunto così come la cadenza del pagamento che può essere mensilio trimestrale teniamo conto che mensilio trimestrale poco cambia anzi nulla cambia nella scelta della modalità di pagamento è solo magari come si trova più comodo il cliente finale e andiamo a cliccare su ricalcola ricalcola ci dà subito un canone di noleggio pari a 103,90 per 12 pagamenti trimestrali andando a fare la somma canoni di 103,90 quindi per 12 vedremo che l'importo complessivo è di 1240 euro quindi inferiore rispetto al valore che voi andate a fatturare alla finanziaria giustamente la domanda che sorge è ma com'è possibile perché il nostro noleggio operativo tiene conto del valore residuo dei beni quindi il canone di 103,90 è dato appunto dal valore residuo perché l'imponibile di questa operazione è di 1300 euro che è il prezzo di vendita ma la finanziaria sottrae a questo imponibile il valore residuo che appunto non farà parte più dell'imponibile pertanto avremo un canone di noleggio che sarà dato da imponibile meno valore residuo più tasso di interesse inoltre nel canone di noleggio che stiamo proponendo dei 103,90 è anche inclusa la copertura assicurativa per danni accidentali e furto senza ulteriori aggravi per il cliente finale questo significa che sostanzialmente il cliente nel giro di tre anni andrà a pagare un importo inferiore rispetto a quello che sarebbe un acquisto avendo anche un servizio in più ovvero la copertura assicurativa inclusa già nel canone inoltre andando a proporre questo canone di 103,90 non ci saranno come abbiamo detto le spese per incasso rata da parte delle finanziarie quindi il canone di 103,90 sarà 103,90 senza gli ulteriori aggravi giunti a questo punto possiamo salvare il preventivo e trovarlo nella nostra schermata che vedremo tra poco e poi creare direttamente un preventivo pdf dalla nostra pagina nel preventivo che abbiamo appunto sotto mano qui in alto a destra può essere personalizzato con quello che è il vostro logo aziendale e la vostra regione sociale ovviamente ritroviamo poi un riepilogo sulle informazioni del cliente finale quello che è il valore del contratto ovvero quanto andrà a pagare il tipo di addebito durata del contratto cadenza del pagamento oltre alla suddivisione su mese, settimane e giorno quindi per utilizzare anche lo slogan con un caffè al giorno puoi prendere questo pc per arrivare poi alla parte secondaria del preventivo dove il cliente finale vedrà soltanto la descrizione del prodotto in questo preventivo non c'è alcun riferimento non c'è nessuna indicazione su quello che è il vostro prezzo di acquisto di vendita o altro il cliente vede soltanto un canone di noleggio comprensivo dei servizi l'assicurazione oppure dei vostri servizi accessori che potete andare a tornare questo pdf può essere quindi scaricato sarà un normalissimo pdf che poi appunto potete tranquillamente inoltrare al vostro cliente finale giunti a questo punto noi possiamo anche vedere insieme come creare un'altra proposta di noleggio operativo intanto chiudiamo questo preventivo abbiamo salvato il preventivo quindi per far sì che questo preventivo poi venga controllato dalle finanziarie una volta che il cliente finale ha accettato questa proposta andiamo a cliccare su convertire preventivo in subscription cliccandoci ci arriva fuori ci viene fuori questo messaggio ovviamente quest'altro messaggio d'errore indica che non siamo collegati con le finanziarie ma cliccando appunto su convertire preventivo in subscription arriverà una notifica alle finanziarie con le quali collaboriamo appunto che andrà ad effettuare il credit check sul cliente finale andando nella schermata subscription ritroviamo tutti quelli che sono i contratti di noleggio e le proposte preventivi che abbiamo creato per i nostri clienti andiamo a prendere questa per esempio dove andiamo a vedere quelli che sono tutti i passaggi relativi al noleggio vediamo nella parte di sinistra lo stato della pratica e nella parte di destra nella colonna di destra appunto le azioni che deve effettuare il rivenditore noi finora abbiamo fatto la preparazione del preventivo che è stata accettata dal cliente e poi una volta che viene convertito il preventivo in subscription questa verrà approvata il contratto sarà quindi firmato dal cliente ci saranno raggiuntari dati bancari e tutto il resto fin quando non arriverà una conferma d'ordine da parte della finanziaria momento nel cui appunto potete acquistare i beni dati di Sinex e proprio e darli ai vostri clienti nel relativamente alle tempistiche di risposta per quanto riguarda la finanziaria ci sono due modalità diverse di operative ovvero HP fa un primo credit check sul cliente finale dove appunto poi consente la firma del contratto e fa una seguente un seguente controllo alla firma del contratto per effettuare eventuali verifiche antifrote di contro DLL invece propone soltanto una verifica sul cliente finale che mediamente dura un giorno lavorativo mentre con HP Financial Services questo check iniziale viene fatto nel giro di un venti minuti mediamente una volta che riceviamo quindi la conferma d'ordine da parte della finanziaria possiamo acquistare i beni installarli presso il cliente finale che dovrà firmare il verbale di collaudo il documento che attesta appunto l'avvenuta fornitura dei beni e l'invio di DDT fattura di vendita e verbale di consegna alla finanziaria che consentirà poi la liquidazione della vostra fattura di vendita nel giro di cinque giorni lavorativi tornando invece sulla pagina dedicata alla creazione della proposta di noleggio voglio farvi vedere anche una seconda modalità ovvero andiamo a selezionare questo part number ora capirete perché partiamo sempre dalla schermata home del nostro e-commerce andiamo su home in touch e selezioniamo in questo caso crea una quotazione veloce prendiamo il caricamento andiamo anche in questo caso a compilare i dati sempre per la finanziaria nella parte centrale non troveremo un prodotto in quanto la proposta che stiamo creando non è collegata direttamente con un carrello quindi andiamo noi fisicamente ad inserire quello che è il prodotto e l'opzione migliore è quella di inserire il part number del prodotto perché? perché così andiamo ad intercettare il corretto valore residuo generando così un canone più competitivo questo perché? andiamo a fare un esempio proprio pratico immaginando questo asset questa macchina è un prezzo di vendita come questo calcoliamo un canone che ci verrà 119,89 se noi facessimo la medesima operazione indicando però notebook HP generico e inserendo come categoria hardware e mettendo il medesimo imponibile vedremo come il canone di noleggio sarà diverso vediamo appunto che è di 127,48 ok tutto chiaro finora quindi possiamo anche salvare questo preventivo ah no perché ci chiede appunto di poter di salvare di compilare quei campi infine sempre dalla schermata home possiamo andare a risalire a quelle che sono le proposte di noleggio che abbiamo inserito che abbiamo creato andando su home in touch gestisci le tue subscription ne troveremo l'elenco appunto di tutte quelle che sono le preventive che abbiamo fatto dei contatti attivi in essere e possiamo quindi anche ad agire investimenti sul cliente in quanto sappiamo quando il contratto di noleggio andrà a scadere ci sono domande dubbi perplessità non sono stato chiaro su qualcosa allora sì vedo che ci sono un paio di domande in chat allora vediamo domanda posso inserire prodotti non acquistati in TDC Nex nel contratto sì certo abbiamo lasciato la possibilità di inserire nel contratto di noleggio creato con con TAS anche prodotti che non sono acquistati in TDC Nex questo per permettere al rivenditore di creare un'offerta completa perché magari ci sono prodotti che noi non abbiamo in distribuzione in questo modo permettiamo di andare a creare in TAS l'offerta di noleggio completa che poi può essere gestita completamente le condizioni assicurative le trovate allegate al contratto ai rispettivi contratti quello di HP o quello di DLL sono piuttosto simili coprono furto e danni accidentali naturalmente non coprono i guasti per quello ci vorrà un'estensione di garanzia che è sempre opportuno andare ad inserire nel contratto di noleggio allora abbiamo un'altra domanda ah perché bella questa domanda perché su 36 mesi il valore il costo la somma dei canoni è inferiore a quella del del valore del contratto perché perché le nostre offerte di noleggio tengono conto del valore residuo del prodotto che cos'è il valore residuo del prodotto il valore residuo del prodotto è quello che la finanziaria stima che sia il valore del prodotto a fine contratto per cui la somma dei canoni terrà conto di questo valore residuo e lo scorpora per cui la somma dei canoni sarà composta da valore del prodotto meno valore residuo e avremo poi la somma canoni che comporta la cifra totale che andremo a pagare nel periodo allora non ci sono costi per usufruire della nostra piattaforma la finanziaria normalmente procede al pagamento delle fatture entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa quindi cosa vuol dire dal ricevimento della vostra fattura contratto e verbale di consegna fine del contratto cosa succede ci sono tendenzialmente tre opzioni alla fine del contratto quella che ci piace di più è che il cliente decida di restituire i beni e fare un contratto nuovo altrimenti c'è la possibilità di offrire un anno di prolungamento del contratto e questo lo può fare direttamente la finanziaria attraverso anche il vostro supporto e oppure c'è sì la possibilità di riscattare i prodotti alla fine del periodo essendo un noleggio operativo il riscatto non viene predeterminato in fase di definizione del contratto ma l'offerta per il riscatto del prodotto sarà erogata alla fine del contratto allora le durate del contratto in TAS vanno dai 12 mesi fino a 60 mesi quindi 12 24 36 48 e 60 ci sono altre domande sono assolutamente a vostra disposizione allora termine del del contratto in noleggio il nostro suggerimento è quello di andare sempre in anticipo rispetto al termine del contratto perché ovviamente quando siamo vicini al termine del contratto la finanziaria dovrà in qualche modo comunicare all'utente finale che il contratto sta finendo è arrivato alla sua fine il nostro suggerimento è quello di contattare il cliente con qualche mese di anticipo 3-4 mesi di anticipo in modo che avviate voi il controllo su quello che il cliente potrete offrire al cliente diverse opportunità magari creare un contratto nuovo piuttosto che magari ampliare il parco macchine e fare una nuova offerta su quello che è la possibilità di aprire un contratto nuovo no i privati non possono usufruire del noleggio operativo possono usufruire del noleggio operativo soltanto le aziende no allora la domanda è se il cliente decide di proseguire un noleggio operativo e restituisce i beni di non proseguire scusate restituisce i beni se c'è un costo di riacquisto degli stessi se il cliente decide di non proseguire con il contratto di noleggio normalmente restituisce i beni alla finanziaria e non ci sono costi nella restituzione del bene se invece volesse riacquistare i beni è possibile fare al cliente un'offerta per il riacquisto dei beni questo a fine contratto sì allora ehm sto dicendo le nuove domande fine fine contratto sì siete voi che proponete poi all'utente finale quelle che sono le possibilità di gestire il fine di di creare un nuovo contratto o se il cliente desidera riscattare potete chiedere un'offerta alla finanziaria e girare l'offerta al vostro cliente c'è una domanda che riguarda in particolare iQuote eh diciamo il rebate di iQuote non è visibile sì perché comunque il il contratto di noleggio operativo viene fatto sulla base del vostro prezzo di vendita all'utente finale questo indipendentemente dal vostro prezzo di acquisto quindi da dove acquistiate per cui per creare il contratto di noleggio operativo il il valore che è importante è il vostro prezzo di vendita all'utente finale per cui basta andare ad inserire del prezzo del prezzo di vendita e viene creato il contratto poi le quotazioni particolari che avete da capire sicuramente sono valide ma sono diciamo riguardano il vostro acquisto dei prodotti prego si si possono anche noleggiare i prodotti per uso interno ottima domanda grazie quindi è possibile attraverso il tool andare ad inserire un contratto per prodotti ad uso interno allora noi siamo la domanda è se nel caso di problematiche durante il periodo di noleggio ci si interfaccia con la finanziaria o con noi noi siamo un team dedicato a questo servizio e siamo assolutamente a vostro supporto per qualsiasi problema dovreste riscontrare nell'arco della durata del contratto per cui vi aiutiamo e vi guidiamo noi ottima domanda i prodotti devono essere per forza propri o anche di altre marche no i prodotti possono essere di qualsiasi marca basta che siano prodotti informatici benissimo se non ci sono altre domande vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e vi ringrazio per le domande che avete fatto che sono servite per approfondire molti temi grazie a tutti io vi auguro una buona giornata grazie a tutti per aver partecipato una buona giornata per qualsiasi informazione non esitate a contattarci l'indirizzo tas.it chiocciolatidsinex.com grazie a tutti ancora buona giornata grazie a tutti